Noi siamo quello che mangiamo. La mia storia inizia da qui. Sette anni fa ho avuto una brutta esperienza di salute che mi ha portato a dover cambiare vita e chiaramente a rimettermi completamente in discussione. Quando da un momento con l'altro ti cambiano completamente le prospettive e nel momento in cui riesci a recuperarle non puoi fare altro che concentrarti su quanto di più caro ed avendo tre figli non ho potuto fare nient'altro che concentrarmi sul futuro dei miei figli e delle nuove generazioni. Ho avuto la fortuna di entrare in contatto con il fenomeno del vertical farming negli albori del vertical farming che è successo in Giappone a seguito del disastro di Fukushima durante il quale hanno dovuto trovare delle soluzioni concrete e reali per produrre del cibo in maniera efficiente e sostenibile. Ci sono quattro grandi sfide globali intorno ai temi dell'alimentazione e della nutrizione. Primo fra tutti, cibo per tutti, ovvero accessibilità al cibo. Sappiamo benissimo tutti che ad oggi sono tantissime persone che non hanno accesso al cibo. Secondo, produrre cibo in maniera sostenibile ed efficiente. Terzo, cibo come elemento di benessere. Finalmente ci siamo resi conto che mangiando bene si può vivere meglio. E cibo come elemento di cultura perché fa parte del bagaglio culturale di tutti noi che dobbiamo preservare. Ma qual è la situazione da cui stiamo partendo? Prima abbiamo avuto diversi scorci, ma ve le cerco di riassumere. Nel 2050 sono previste quasi 9 miliardi, 10 miliardi di persone di cui il 68% allocato nei pressi dei grandi centri urbani. Questo significa che la produzione agricola dovrà crescere di oltre il 70% rispetto all'attuale. In altre parole, nei prossimi 30 anni dovremmo essere capaci di produrre più cibo di quanto non sia mai stato prodotto negli ultimi 10 mila anni. Ma allo stesso tempo ci sono dei fatti concreti. Un terzo di tutto il cibo prodotto globalmente viene buttato e il 70% del consumo idrico mondiale viene utilizzato dal comparto agricolo. Ecco, questa è la situazione. Bisogna trovare delle soluzioni concrete. Noi riteniamo che il vertical farming possa rappresentare una di queste. Perché? In molti casi la tecnologia priva in questo caso ridà. In che modo? Riducendo drasticamente la filiera. Pensate che all'interno di uno stabilimento di vertical farming entra un seme ed esce un prodotto confezionato. E addirittura nel nostro caso specifico il nostro prodotto non deve essere lavato per essere mangiato. Utilizzando in modo molto responsabile le risorse naturali, quali suolo e acqua. Riusciamo a essere fino a 300 volte più efficienti dell'agricoltura tradizionale. E risparmiando dal 95-98% di acqua in meno. Quello che vi so dire è che l'unica acqua che realmente consumiamo è quella presente all'interno della foglia di insalata. Pensate. Ridando biodiversità. Biodiversità dove? Dentro e fuori. Dentro perché pensate che è possibile ogni giorno produrre prodotti diversi, ortaggi diversi. Quindi ribilanciare la dieta mediterranea. E partiamo da un seme che è l'opposto di quello dell'agricoltura tradizionale. Perché l'agricoltura tradizionale è andata alla ricerca di quello che è il super seme. Ovvero quel seme che permetta agli agricoltori di avere quelli di più e che resista meglio all'incostanza climatica che stiamo vivendo. Noi invece cerchiamo i semi vecchi, quelli antichi, quelli deboli, quelli che purtroppo nessuno può usare. Ma che proteggendoli strutturalmente è un'esplosione di gusto e di sapori. E ridiamo, come dicevo prima, biodiversità fuori. Perché? Perché riuscendo ad avere un'impronta completamente diversa rispetto all'agricoltura tradizionale significa ridare, risparmiare terreni che possono essere riutilizzati, riutilizzati per ribilanciare un ecosistema che oramai abbiamo visto necessita realmente di un aiuto. E' una produzione in assenza totale di chimica, di pesticidi, di erbicidi. Un prodotto quindi buono, sano e fresco 365 giorni all'anno. Non possiamo fermarci, come dicevamo prima, ad aspettare che qualche di un altro lo faccia per noi. Noi pensiamo di essere sulla giusta strada e alcuni dati ciò dicono. Pensate che negli ultimi due mesi nel mondo sono state costituite più di 40 società di vertical farming. Questo non significa assolutamente che sia una tecnologia semplice, che sia un mondo facile, ma questo significa che è partito un movimento, un movimento che vuole dire basta, che deve cambiare. Ecco, noi l'abbiamo fatto in che modo? Cambiando prospettiva. Cambiando prospettiva da orizzontale a verticale. Ed è sempre stato il modo utilizzato nella storia dell'evoluzione. Ecco, come siamo riusciti a farlo noi e io sono partito da sola, ad oggi ho una famiglia bellissima di oltre 65 persone che lavorano insieme a me e contribuiscono e credono fortemente in quello che facciamo. Ecco, penso che ognuno di voi possa farlo, ma bisogna avere il coraggio reale di sapere dire «I don't care, non mi interessa». Cioè, nel momento in cui tu vuoi realmente innovare, ti troverai sempre tantissime persone che ti diranno «No, non è possibile». «No, questo no, questo no, il prodotto non puoi vendere così, non puoi fare quello, questo non è possibile». Ecco, vuol dire che stiamo facendo bene. E il fatto che sia successo in Italia, secondo me, mi collega a quello che ha detto il sindaco prima, è vero, abbiamo un capitale umano incredibile in Italia. Abbiamo delle persone abituate a barcamenarsi e a guardare avanti. Ecco, noi l'abbiamo fatto. Io spero che anche voi vogliate contribuire a questo nuovo movimento. Grazie a tutti.